E adesso siamo a parlarvi comunque di notizie in arrivo, ma soprattutto ci ricolleghiamo all'apertura della giornata di oggi, cioè questa solennità che ci fa celebrare gli Arcangeli e San Michele in particolare, perché noi siamo prossimi qui a un luogo che è straordinario da tanti punti di vista, non solo quello spirituale e religioso. Saluto la vice sindaco, ho detto bene o preferisce il vice sindaco? La vice sindaco di Monte Rosa Palomba, buongiorno. E il nostro Tony vi presenta l'altro ospite, non voglio... L'altro nostro ospite è Pasquale Gatta, coordinatore Monte Sant'Angelo, capitale della cultura. I più attenti ricorderanno che i nostri ospiti sono già stati nei nostri studi alcuni mesi fa, quando Monte Sant'Angelo, degnamente rappresentata da loro, ha partecipato alla competizione della capitale nazionale della cultura. È stato un momento molto avvincente per tutti, perché facevamo tutti il tifo per Monte Sant'Angelo che la comunità garganica in maniera particolare ha partecipato attivamente a questo processo, a questa candidatura. Ricordami chi si è permesso di passare avanti, di soffiarvi. Se non ricordo male è stata Agrigento, la splendida Agrigento, che si è aggiudicata il titolo di capitale nazionale della cultura, però Monte Sant'Angelo, che rappresentava già la Puglia nella competizione, diventa capitale al regionale della cultura. Ma ci facciamo raccontare tutto proprio da loro, per cui anche in occasione di questa festa di San Michele Arcangelo, che cosa è successo, succede e succederà a Monte Sant'Angelo nei prossimi giorni. Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutte. Competizione, Monte Sant'Angelo quindi ha partecipato a questo importante concorso nazionale. A Roma abbiamo portato non solo Monte Sant'Angelo, ma tutto il Gargano, perché era una candidatura di territorio. Purtroppo non è andata bene, ma comunque la regione Puglia ci dà l'occasione al comune pugliese, che si è classificato più in alto, quindi Monte Sant'Angelo, tra le prime dieci, di rappresentare la Puglia intera. E quindi dal 1 gennaio 2024 inizia un percorso. In realtà è partito ieri, in una giornata fantastica, con l'inaugurazione dell'anno scolastico, con accanto i dirigenti, quindi le istituzioni scolastiche, l'assessore regionale all'istruzione Sebastiano Leo, abbiamo avviato la capitale, perché abbiamo, in accordo anche con le istituzioni scolastiche, abbiamo deciso di giocare, se volete anche sul nome, il nostro capitale umano, che sono i nostri ragazzi, che sono i nostri giovani. E quindi ieri è partito, posso dire in pompa magna, questa candidatura. Quindi in 2024 Monte Sant'Angelo sarà capitale regionale della cultura per la Puglia. E non è poco, considerando che la nostra regione è così lunga, ricca e variegata, rappresentarla è comunque un grande onore, vero Pasquale? Sì, bravo, è un grande onore rappresentare la Puglia. In un anno in cui ci saranno tantissimi eventi, ci saranno tanti progetti strategici dedicati. Ieri per esempio siamo partiti con Io sono capitale, come diceva la nostra vice sindaco, che è sia il capitale umano ma anche la comunità diventa capitale, non solo la città. Quindi mettiamo al centro i nostri progetti, il progetto non si sente. Mi sentite? Può proseguire tranquillamente. Mettiamo al centro i nostri grandi progetti, come per esempio Micael, a proposito di San Michele Arcangelo. I nostri progetti sono basati su radici e ali. San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo, proprio perché lo celebriamo oggi, rappresenta sia le nostre radici ma anche le nostre ali. Siamo tornati la settimana scorsa da Mont Saint-Michel. L'abbazia francese di Mont Saint-Michel nel 708 viene fondata da una pietra del nostro santuario. E lì abbiamo incontrato, stiamo costruendo una rete internazionale dei centri micaelici, con Mont Saint-Michel, con la Sacra di San Michele in Piemonte, con tanti siti in Francia, in Spagna. E quindi questo è il progetto Micael, che è diventato Micael 365. Ce lo raccontiamo tutti gli anni. Per esempio in questi giorni abbiamo, il 24 settembre, abbiamo spostato, poi per mal tempo, il corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo, che mette in scena teatralmente le tre apparizioni di San Michele. Abbiamo, in questi giorni c'è la festa patronale. Ieri c'è stata l'offerta della cena da parte dell'amministrazione comunale al santuario. Un momento anche molto particolare, perché per la prima volta il santuario di San Michele Arcangelo ha donato al comune di Montessantangelo una statua che è stata posta all'interno del comune nella stanza del primo cittadino. E nei prossimi giorni, dal 5 all'8... Bravo che non ci fosse finora. Esattamente, bravissima. Quindi per la prima volta è stata benedetta dal vescovo in grotta e poi è stata portata in corteo. E dal 5 all'8 chiudiamo Micael 365, presentata alla Borsa Internazionale del Turismo Religioso a Vicenza, quest'anno a febbraio. Chiudiamo con il Festival Mond, festa del cinema sui cammini proposta insieme alla Puglia Film Commission, una fondazione regionale. Mi ricollego proprio al tuo ultimo passaggio, perché proprio domani avremo qui il direttore artistico del Festival Mond, quindi continueremo a parlare di Montessantangelo. Vi facciamo veramente complimenti sinceri e sentiti per tutto il lavoro che avete fatto e che state facendo per questa straordinaria città. Mentre tu parlavi, Pasquale, andavano in onda le immagini di questo centro garganico e pugliese davvero meraviglioso. Lo dicevamo con padre Ladislao in apertura, una città medievale con un fascino straordinario che accompagna i pellegrini nel viaggio che fanno verso la Sacra Spelonca. Io se posso dire proprio qualche secondo, perché dobbiamo chiudere, sollecitando appunto la gentilissima Rosa, va bene l'attaccamento al territorio, l'orgoglio, però si tratta di luoghi meravigliosi per l'intera Italia. Del mondo intero, direi. Sì, ma in ogni caso, visto che il brand Italia è sempre più importante, io direi che forse voi stessi, ma lo avrete verificato con tanti ospiti dalle altre regioni, dall'estero anche, quanto si resta bocca aperta per la profondità e anche la capillarità dei tanti settori in cui ci si imbatte quando si viene a Monte Sant'Angelo. Quindi mi raccomando, eccellenza garganica, ma eccellenza italiana. Assolutamente, e ce lo sottolineano i tanti ospiti, i tanti visitatori che quotidianamente giungono a Monte Sant'Angelo, ma anche quando abbiamo partecipato insieme ad Agrigento, altro non viene sottolineato. Ecco, dell'importanza abbiamo un dovere che è quello di raccontare il territorio uscendo fuori dai confini regionali e se vogliamo anche provinciali. Molto bene, i complimenti ve li abbiamo già fatti, per cui adesso è il tempo di farvi gli auguri di buon lavoro, continuate così e se possibile cerchiamo di fare anche di più, anche meglio, perché il nostro territorio davvero merita quello che potremmo anche chiamare un riscatto importante ed è grazie a menti come le vostre che questo riscatto può avvenire. Grazie ancora per essere stati con noi, ci risentiamo presto. Grazie a voi. Augusto è tutto, San Michele protegga tutti noi. Grazie.